Quello della formazione dei docenti potrebbe diventare il tema delle prossime settimane quando si inizierà a discutere seriamente e approfonditamente dei fondi del PNRR e del rinnovo contrattuale. Nell'atto di indirizzo sull'attività amministrativa per il 2022 firmato dal Ministro Bianchi pochi giorni fa ci sono tutte le premesse. Il Ministero, si legge nel documento, intende riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti per stabilire un nuovo modello legato a un ripensamento della loro formazione iniziale e della loro carriera. Ma, afferma ancora il Ministro, è necessario anche definire un nuovo sistema per la formazione continua del personale scolastico. D'altronde, nel PNRR è previsto un intervento di riforma finalizzato proprio a costruire un sistema di formazione di qualità, in linea con gli standard europei, da affidarsi ad una scuola di alta formazione e che vedrà il coinvolgimento delle università, dell'indire, dell'invalsi. Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è intervenuto sul tema della formazione continua anche durante l'inaugurazione dell'anno scolastico e ha parlato di formazione continua per tutte le persone che vivono nella scuola e che partecipano del mondo della scuola in vista di una riforma che tocchi l'organizzazione ma anche la didattica. Sul tema è intervenuto anche il sindacato di Francesco Sinopoli, la FLC CGL, ad avvertire attenzione a non svilire la professionalità docente come hanno fatto i concorsi a quiz delle discipline STEM. E ancora, la formazione in ingresso sia il momento chiave della professione docente che del sindacato, perché quando manca diventa difficilissimo recuperare il gap nella vita professionale successiva. E ancora, l'unione di formazione e reclutamento in un unico sistema integrato sia il nuovo modello formativo strutturato e costruito in collaborazione tra scuola e università. E il pensiero corre alle SIS. Ma come si potrà raggiungere un obiettivo del genere? Intanto va detto che da alcuni anni a questa parte i finanziamenti destinati alla formazione non mancano e altri potrebbero arrivarne proprio grazie al PNRR. E senza dimenticare che, almeno per l'anno scolastico in corso, continueranno ad esserci anche i fondi della carta del docente, 350 milioni di euro, che proprio in questi giorni è stata rinnovata fino al 31 agosto 2022. C'è tuttavia un passaggio che non deve essere trascurato. I sindacati continuano a sostenere che la formazione è materia di contrattazione e ogni intervento sull'argomento deve essere concordato al tavolo contrattuale. Per capire come potrebbe concludersi la vicenda, bisogna quindi aspettare che si aprano le trattative per il rinnovo del contratto nazionale del personale della scuola. Trattativa che, per essere avviata, necessita però dell'atto di indirizzo del Governo, che è stato annunciato da tempo e che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, in occasione della presentazione alle Camere della legge di bilancio. Se la legge dovesse prevedere risorse adeguate sarebbe forse più facile arrivare ad un punto d'incontro fra Governo e sindacati anche sul problema della formazione. Il tema è di particolare interesse perché coinvolge quasi un milione di docenti di tutta Italia, quindi su questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.